Gruppo costituito dal classico organico del quintetto Affiati. Flauto Mauro Martello, Obue Francesco Diciacento, Clarinetto Martino Pavan, Corno Fabrizio Nasetti, Fagotto Davide Furlanetto. Oltre a proporre nei concerti il grande repertorio della musica classica, la formazione si è specializzata nell'esecuzione di particolari arrangiamenti di colonne sonore e di brani popolari. Sono con noi i Quinta Essenza. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.